Siamo arrivati al quarto anno quest'anno e quindi quarta edizione anche per Monza E allora vi presento subito, amici, tutti i gruppi che parteciperanno questa sera Vogliamo sentire il vostro calore per loro, perché sono Panorama Silo Under there Apprezzione The News Ospiti questa sera della manifestazione sono Modello 740 Benissimo, loro sono i protagonisti, però insieme a loro ovviamente siete anche voi Che dovete sostenere la produzione musicale giovanile E quindi dovete sostenere questa sera, la grande, tutti questi gruppi Questa manifestazione è promossa dall'assessorato allo sport petagro-turismo della provincia di Milano Insieme in collaborazione con un'agenzia che lavora molto bene qui a Monza Si chiama l'agenzia Lilium Che è gestita fra l'altro da alcuni elementi degli underground live, nostri amici Ma vediamo subito la musica Amici, sulle mani Il vostro calore per Panorama Grazie a tutti哪 Grazie mille Grazie a tutti 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 Grazie a tutti